Ok, abbiamo attivato la registrazione, io sono Mario Guidolin e ci siamo già, per chi c'era anche l'altra volta, visti la volta scorsa nell'incontro di presentazione del progetto. In questo caso invece l'incontro che andiamo a fare adesso si concentrerà proprio sulla piattaforma asvo.scolapark.it, che è questo nuovo strumento educativo che Asvo vi mette a disposizione all'interno del progetto Dragon Games, del progetto di educazione ambientale di quest'anno. L'incontro si svolgerà nel seguente modo, i primi 10-15 minuti cercherò di fare una velocissima presentazione, tanto per dare un'introduzione del contesto e di un'organizzazione generale della piattaforma. La seconda parte, quella un po' più corposa, sarà quella nella quale vi spiegherò come utilizzare la piattaforma, quindi vi farò vedere materialmente come accedere come docente, come far accedere i vostri studenti e come far fruire la piattaforma ai vostri ragazzi e fruire dei contenuti che ci sono all'interno. Vi farò vedere i giochi, i video, tutto quello che viene messo a disposizione. Non credo che la licenza per voi sia già attiva, nel senso che la scadenza del progetto era fino ad oggi praticamente, quindi noi aspetteremo di chiudere le adesioni questa sera e poi a partire da domani al massimo, dalla settimana prossima, avrete tutte le licenze attive e potrete accedere tutti alla piattaforma, perché la piattaforma è riservata a tutte le classi aderenti al progetto Dragon Games. Naturalmente vi manderemo un'apposita comunicazione quando avrete la possibilità di entrare nella piattaforma e di guardare i contenuti che ci sono all'interno. Allora, in questo webinar vi presentiamo asvo.scuolapark.it Sarò molto veloce, anche perché una parte di queste cose le abbiamo dette anche nell'incontro precedente, comunque ASVO sapete chi è, è il gestore dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti degli 11 comuni attorno al bacino di Porto Gruaro, è un territorio piccolo da un punto di vista dell'estensione, ma comunque densamente popolato e va a comprendere anche località come Bibione e Caorle, che comunque soprattutto nella stagione estiva presentano un gran numero di turisti e quindi c'è un certo lavoro di gestione della raccolta differenziata soprattutto appunto nelle stagioni turistiche. ASVO ha sempre messo un particolare attenzione al mondo delle scuole e quindi offre ogni anno un progetto didattico sui temi della raccolta differenziata del riciclo e anche più in generale sull'economia circolare, la sostenibilità, le buone pratiche di sostenibilità. Da quest'anno ha deciso di mettere a disposizione anche una piattaforma didattica digitale che va ad integrare gli interventi educativi che faremo in classe. Io sono Mario Guidolin di ACAB Group, che è l'agenzia che da quest'anno sta seguendo la gestione del progetto educativo di ASVO. Noi ci occupiamo di comunicazione ambientale e quindi facciamo attività di divulgazione, di sensibilizzazione su tutti i temi che hanno a che fare con l'ambiente, non solo rifiuti ma anche l'economia circolare, il risparmio energetico, il turismo sostenibile, quindi tutte le azioni che hanno un impatto positivo sull'ambiente e che sviluppiamo quindi progetti che hanno l'obiettivo di educare i cittadini e i ragazzi, gli studenti delle scuole su questi argomenti, su queste tematiche. L'educazione ambientale quindi è un argomento fondamentale perché ci dà la possibilità di diffondere determinati tipi di valori, determinati tipi di conoscenze e di far fare delle esperienze ai ragazzi, gli studenti che saranno poi i cittadini di domani, quelli che dovranno agire nel mondo in cui ci troviamo ma anche risolvere le problematiche che verranno magari costrette ad affrontare nel loro processo di crescita. Quindi l'educazione ambientale è un valore condiviso sia dal nostro punto di vista come ACAM ma anche appunto da ASMO che da anni cerca di promuovere questa attività in tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado. L'educazione ambientale quindi è una delle armi più potenti che abbiamo per cambiare le cose o comunque cercare di migliorarle e rendere più vivibile l'ambiente in cui ci troviamo a stare e a migliorare quindi le nostre condizioni di vita. La proposta didattica che noi abbiamo fatto quest'anno per questa edizione affianca al progetto educativo Dragon Games che prevede 235 laboratori in presenza a Scuola Park, la piattaforma didattica Scuola Park. In realtà il numero di laboratori, le adesioni sono state molte, abbiamo superato ampiamente le 235 classi, siamo a oltre 260 e attenderemo la conferma ufficiale d'ASO però mi sento di dire che svolgeremo tutti i laboratori. Quindi anche se abbiamo sforato il numero previsto, andremo comunque a coprire tutte le richieste a partire dall'infanzia fino alle secondarie di secondo grado. Quindi credo che non ci sia nulla di cui preoccuparsi anche chi è arrivato per ultimo, chi è arrivato tardi, in realtà non tardi perché le visioni sono ancora aperte, però dopo oltre il numero previsto molto probabilmente avrà a disposizione l'attività di laboratorio. Per tutti naturalmente ci sarà la piattaforma Scuola Park, appunto, nel quale abbiamo cercato di, è una piattaforma che è stata creata da noi di ACAB, in cui abbiamo cercato di creare una specie di grande contenitore, di contenuti che affrontano i temi della sostenibilità, però in modo innovativo, in modo divertente, sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali. Cos'è effettivamente poi Scuola Park e in particolare la piattaforma che voi andrete a utilizzare, asvo.scuolapark.it? È una piattaforma di didattica nei quali potete trovare contenuti per l'educazione civica, ambientale e sui temi della sostenibilità. È uno strumento digitale innovativo perché, come vedremo, ha tutta una serie di contenuti digitali e di giochi con i quali i ragazzi possono mettere a prova le loro abilità e le loro conoscenze sui termini dell'ambiente e può essere sfruttata quindi sia per le attività didattiche in aula, sia per le attività extrascolastiche in modo trasversale e interdisciplinare, proprio perché si parla di ambiente, si parla anche di educazione civica, quindi ci sono tanti temi che possono poi essere integrati fra loro e che possono creare un percorso formativo duraturo nel corso dell'anno. All'interno troverete un catalogo di risorse didattiche multimediali che poi potrete selezionare per ciclo scolastico, argomento e tipologia. La piattaforma tra l'altro è già online, come sapete, o chi non lo sa, insomma la potete già vedere e quindi potete già capire un po' com'è organizzata, la potete navigare liberamente, appunto l'unica cosa è che non potete accedere ai contenuti perché aspettiamo di chiudere le adesioni e di attivare le vostre licenze. Le risorse che troverete all'interno sono di tanti tipi, tante tipologie, ci sono video, ci sono giochi, ci sono racconti e materiali didattici specifici come dispense, presentazioni in PowerPoint, opuscoli per i ragazzi che vanno ad affrontare in maniera sicuramente sempre giocosa, divertente, con un linguaggio adatto all'età appunto a cui ci si rivolge, ma anche in maniera scientifica, citando fonti, citando temi e andando in profondità nell'argomento il più possibile. Gli strumenti poi ci sono anche alcuni che sono specifici per gli insegnanti, in modo tale che anche il docente possa eventualmente preparare poi la lezione perché l'obiettivo di questa piattaforma è quello di mettervi a disposizione dei contenuti che potete utilizzare per preparare delle lezioni in classe. Vi abbiamo parlato anche l'altra volta della collaborazione con Cinema Ambiente che mette a disposizione una serie di film, di documentari e di cartoni animati da poter visionare all'interno della piattaforma e alla fine ci sono anche dei test di apprendimento e valutazione che l'insegnante può decidere di utilizzare per poi completare l'attività all'interno delle unità didattiche e verificare i concetti che gli studenti hanno appreso utilizzando i contenuti che ci sono all'interno della piattaforma. Come vi ho già accennato, la piattaforma è suddivisa per unità didattiche, cioè per sezioni, diciamo argomenti. Queste che vedete qui sono quelle che poi ritroverete all'interno della piattaforma. Ci sono tre unità didattiche dedicate al tema dei rifiuti, che è naturalmente quello a cui ASVO tiene di più. Parliamo di rifiuto organico, compostaggio e spreco alimentare, economia circolare in filiera di riciclo, riduzione, dove all'interno ci sono tutte le buone pratiche di riduzione e riuso dei rifiuti. Un'unità didattica dedicata ai cambiamenti climatici, richiesta da ASO perché ha voluto fare quest'anno un focus proprio su il fenomeno dei cambiamenti climatici, e poi un'unità didattica invece dedicata all'educazione civica. All'interno poi, se prendete la piattaforma, avete a disposizione un catalogo completo nel quale voi potete selezionare le tipologie di materiali che volete utilizzare. Quindi non siete costretti ad andare all'interno delle unità didattiche, ma potete anche semplicemente fare attraverso un cerca o attraverso dei filtri, individuare il contenuto che più vi interessa. Tra l'altro, qui nel catalogo ci sono anche dei contenuti aggiuntivi rispetto a quelli all'interno delle unità didattiche, quindi ci sono anche ulteriori contenuti che poi voi potete visionare e utilizzare. Con Cinema Ambiente abbiamo appunto questo rapporto di collaborazione, è un festival dedicato al cinema, quindi a documentari, a film che parlano di ambiente, di sostenibilità. È nato a Torino nel 1998 e all'interno della piattaforma sarà possibile visionare una serie di video che hanno realizzato le scuole che hanno partecipato al concorso Cinema Ambiente Junior, dove delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado hanno prodotto dei piccoli documentari che poi hanno partecipato, sono stati giudicati da una giuria e sono stati assegnati dei premi, sono stati selezionati i migliori e assegnati dei premi. I migliori sono quelli che poi trovate all'interno della piattaforma che potrete visionare. Diciamo che uno dei vantaggi che vi offre questa piattaforma è quello di poter integrare il programma di educazione civica previsto appunto dal Ministero con delle attività dedicate alle tematiche specifiche dedicate alle tematiche ambientali. Quindi è un supporto alla didattica che vi viene messo a disposizione. I vantaggi di questo strumento è che è accessibile da PC, da qualsiasi strumento digitale, quindi da computer, da tablet, da smartphone, è sempre disponibile, qualsiasi orario e in qualsiasi luogo. L'importante è che ci sia la connessione internet, insomma. Quindi questo è un vantaggio sia per il docente ma anche per gli studenti che possono quindi visionare i contenuti a casa con i propri genitori liberamente. Utilizziamo in tutti i contenuti, compreso quello che vedete adesso qui nella presentazione, un font particolare che è l'Easy Reading Font, che è un font studiato appositamente per ragazzi dislessici, quindi che hanno problemi di dislessia. Questo perché il design con cui sono state fatte le lettere, la distanza che c'è tra una lettera e l'altra, facilita la lettura. Quindi tutti i documenti all'interno, i contenuti all'interno della piattaforma presentano questo font particolare. Vi repilogo velocemente quella che è l'offerta didattica del progetto Dragon Games, in modo che sia chiaro a tutti e ho profitto di questa occasione per ribadire che ci sono appunto anche i laboratori, i laboratori che vengono fatti in presenza e che affrontano diverse tematiche che più o meno sono quelle che poi è ritrovata all'interno della piattaforma. Ogni le lezioni, a seconda del grado scolastico, hanno una durata che va dall'un'ora e mezza a due ore, un'ora e mezza è praticamente esclusivamente per le scuole dell'infanzia, due ore invece dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado. e ogni scuola può, ogni classe al momento dell'adesione può scegliere fino a un massimo di due laboratori e quindi fare due interventi successivi e anche giornate diverse su due tematiche differenti. Il progetto appunto è stato completamente rinnovato, si chiama Dragon Games e ha come protagonista Dragon Augusto che è, diciamo, la mascotte di Asbo, che è stata però un po' rivista in un'ottica di renderla più moderna e è stata infilata, diciamo, nel mondo di Minecraft, nel mondo di videogames, ma l'obiettivo è quello un po' di suscitare l'interesse dei ragazzi quasi di tutte le età e di creare delle avventure nelle quali trasportare poi i ragazzi che ogni avventura affronta un tema specifico. In questo caso, quest'anno, abbiamo due temi principali, uno che si intitola La ricerca del riciclo perduto che affronta più che altro i temi che riguardano nello specifico la raccolta differenziata, quindi come si fa correttamente la raccolta differenziata, il recupero delle materie prime tramite la filiera del riciclo, un focus specifico sul rifiuto organico dedicato poi anche al processo del compostaggio domestico, un studio specifico sugli impianti di riciclo e poi anche qui un focus sugli imballaggi in plastica che sono solitamente quelli con cui più abbiamo a che fare nella nostra quotidianità e anche i ragazzi li devono avere continuamente sott'occhio quando comprano qualcosa da mangiare, da bere, insomma, l'imballaggio in plastica è proprio quello più diffuso e quello che viene più riciclato e quindi abbiamo deciso di fare proprio un focus specifico su questa tipologia di materiale e che crea anche un po' più problemi insomma nello smaltimento. L'avventura numero due invece è dedicata alla riduzione degli sprechi, si intitola Fuga della terra degli sprechi e in questo caso c'è un approccio un po' più generale che parla soprattutto di prevenzione dei rifiuti ma anche di contenimento degli sprechi come ad esempio gli sprechi alimentari ma anche gli sprechi energetici o gli sprechi idrici legati allo spreco di materiali insomma le buone pratiche di riuso e di riduzione insomma per riuscire a dare nuova vita agli oggetti ed evitare quindi il cosiddetto uso e getta per recuperare e riutilizzare le cose che non servono più a qualcun altro non servono più magari possono essere utilizzate. Il consumo consapevole anche qui è un tema molto importante e anche molto ampio che va da un consumo critico che prevede di contenere l'acquisto di imballaggi nel momento in cui si va a fare la spesa fino anche appunto a utilizzare sistemi di acquisto di beni usati o di rivendita insomma di beni usati e poi si parla anche di pronte ecologiche di cambiamenti climatici quindi come gli sprechi vanno a incidere sull'emissione di CO2 in atmosfera e questo quindi poi va a influenzare il nostro clima ecco questo è il panorama delle tematiche che poi voi troverete anche nei contenuti della piattaforma vi ricordo poi perché ASBO ci tiene particolarmente che come ogni anno al progetto ci si affiancano due contest uno per le scuole primarie e uno per le scuole secondarie di primo grado una volta chiuse le adesioni sarà fatta un'apposita comunicazione una per le scuole primarie e una per le scuole secondarie di primo grado dove invieremo il regolamento completo e specifico per ogni per ciascun concorso per quanto riguarda le primarie è un concorso di disegno dove l'obiettivo dei ragazzi sarà quello di creare la prossima avventura di Dago Augusto sui temi della sostenibilità e che potrebbe poi diventare diciamo il poster della seconda edizione del progetto mentre per quanto riguarda le secondarie di primo grado è un lavoro meno creativo ma comunque molto importante di approfondimento i ragazzi potranno assumere i panni di un giornalista e fare un'inchiesta sui temi appunto della sostenibilità che può essere un'intervista a una persona oppure un approfondimento su un tema ambientale a cui tengono particolarmente sulla problematica della loro città del loro quartiere che vogliono affrontare come vedete ASO ha fissato anche i premi che sono abbastanza importanti ASO primerà le prime tre classificate di ogni le prime tre classi di ogni concorso quindi le prime tre classificate delle primarie e le prime tre classificate delle secondarie di primo grado con un buono in denaro di rispettivamente 500 300 200 euro che sarà consegnato alla classe perché in questo caso noi parliamo di lavori di gruppo o lavori di classe perché vogliamo incentivare proprio la collaborazione tra tra i ragazzi quindi noi manderemo la comunicazione vi sarà presentata l'attività del concorso anche nel corso dei laboratori e da lì poi voi potrete decidere se partecipare o meno e ci saranno tutte le indicazioni per poter presentare il proprio elaborato e quindi concorrere al concorso insomma un repilogo vabbè queste sono le principali novità perché l'altra cosa importante è che Scuola Park è un prodotto in evoluzione cioè è una piattaforma che presenta sempre contenuti nuovi che cambiano nel tempo e si integrano quindi questo è un altro aspetto positivo della piattaforma fra questa quest'anno abbiamo inserito un'unità appunto didattica dedicata ai cambiamenti climatici che vi abbiamo inserito ci sono dei cartoni animati che abbiamo sviluppato e che anche questi tutti dedicati a temi della sostenibilità e dell'educazione civica e poi e la possibilità appunto di visionare i lavori prodotti nell'occasione del concorso Cinemalmente Junior che è appunto una novità che abbiamo messo a disposizione quest'anno ecco diciamo che questa prima parte della presentazione l'ho conclusa ed era un modo per intanto rifarvi un po' riepilogo dell'offerta didattica che ci sarà quest'anno e che dopo la chiusura delle adesioni che avverrà oggi inizierà diciamo la parte operativa del progetto inizieremo a contattare le scuole per fissare gli appuntamenti e i laboratori avvieremo il contest e apriremo e vi daremo la possibilità di accedere alla piattaforma scuolapark asu.scuolapark.it e quindi a tutti i contenuti che ci sono al suo interno qui trovate anche i riferimenti per chiedere informazioni l'indirizzo mail del progetto e il il referente del progetto che sono io naturalmente con anche il mio numero potete chiamarmi eventualmente se volete se avete bisogno di chiedimenti o di informazioni ulteriori ok allora io interromperai la presentazione per poi condividervi la pagina di asu.scuolapark.it nel frattempo se avete qualche domanda anche sul progetto quindi che esula un po' della piattaforma me la potete fare e altrimenti li vediamo dopo insomma senza problemi ok ok quindi questa seconda parte invece del webinar ha l'obiettivo di farvi vedere come funziona la piattaforma questo che vi sto condividendo è il sito asu.scuolapark.it che è sia piattaforma che sito di progetto cioè all'interno trovate anche un po' le informazioni necessarie che riguardano insomma il progetto Dragon Games di quest'anno vi faccio una brevissima carrellata del menu della piattaforma e poi vi faccio vedere come accedere e come visualizzare i contenuti allora come vedete la piattaforma in realtà è realizzata in maniera abbastanza semplice ha una sua home page questa è la pagina di benvenuto dove vengono presentate le novità che vengono inserite all'interno del catalogo dei contenuti e poi ci sono rappresentati tutti i contenuti suddivisi per categorie ecco una cosa che forse avevo accennato nel precedente incontro non ho ancora detto è che ci sono dei contenuti in lingua inglese cioè alcuni dei contenuti in italiano che abbiamo sviluppato li abbiamo tradotti e li abbiamo messi a disposizione anche in lingua inglese scorrendo con le freccette potete andare a vedere a scorrere diciamo appunto i contenuti a disposizione per ogni categoria videodidattici narrativa dei tipologi di laboratori interattivi giochi educativi materiali didattici i testi di valutazione le interviste e delle interviste che abbiamo fatto a rappresentanti del mondo della sostenibilità o dell'economia circolare i corti delle scuole di cinema ambiente junior e poi l'unità didattica dell'educazione civica insomma ci sono tutte le delle sezioni tematiche dove abbiamo accorpato i contenuti questa cosa poi voi la potete vedere in altre due sezioni in realtà nella sezione catalogo generale che è questa qui che è quella che vi spiegavo prima qui avete l'elenco di tutti i contenuti che sono presenti all'interno della piattaforma man mano che poi voi scorrete appaiono continuano ad apparire e come vedete sono tantissimi sono tantissimi quindi non è semplice anche di stricarsi tra tra tutti questi contenuti per questo abbiamo fatto questa sezione dove nel catalogo voi potete filtrare o fare un cerca per nome lo so cercate Allegra Brigata che è il nome di un cartone animato e di un racconto che c'è all'interno della piattaforma e vi appare naturalmente quel contenuto oppure potete utilizzare dei filtri i filtri sono per macro tema che in questo caso sono tre rifiuti rapporto uomo natura che comprende i cambiamenti climatici ed educazione civica se io seleziono rapporto uomo natura mi appaiono solo i contenuti che fanno riferimento a quel tema e potete selezionarli per grado scolastico e naturalmente in questo caso abbiamo tutti i gradi dall'infanzia alla secondaria di secondo grado e i filtri sono anche integrabili quindi io posso decidere di voler vedere il tema rifiuti per le primarie di terza quarta e quinta o per l'infanzia e le primarie di terza quarta e quinta e man mano che io tolgo un flag dal menu mi appaiono e mi scompaiono i contenuti che mi interessano che voglio vedere tipo di risorsa quindi si può anche filtrare per tipo di risorse qui avete l'elenco delle tipologie di risorse che potete trovare che sono un po' gli stessi che c'erano nell'home page il tema che a differenza del macro tema che è un po' generale va più nello specifico e sono le unità didattiche a disposizione quella dell'educazione civica io e noi il mondo attorno quello sul rifiuto organico la filiera del riciclo cambiamenti climatici e riduzione e poi potete infine selezionare anche la lingua quindi anche solo i contenuti in inglese o i contenuti in italiano ecco in questo modo voi potete muovervi meglio nel catalogo molto ricco che poi troverete all'interno della piattaforma qui sopra trovate un riepilogo dei filtri che sono attivi in questo momento quindi man mano che poi io tolgo i filtri scompaiono e riappaiono tutti i contenuti un modo un po' più semplice per navigare tra i contenuti è quello delle unità didattiche in realtà come vi dicevo però nelle unità didattiche non ci sono tutti i contenuti della piattaforma ma sono quelli che fanno riferimento a un percorso formativo che rientra all'interno di quell'argomento ad esempio le interviste che abbiamo fatto sugli esperti dell'economia circolare non rientrano in un'unità didattica però le avete a disposizione nel catalogo qui invece questo sistema oltre a facilitarvi l'individuazione dei contenuti vi consente anche di creare un percorso formativo per i ragazzi su uno specifico argomento clicchiamo ad esempio economia circolare filiera del ciclo quindi apro questa unità didattica che viene esplicitata qui e qui avete la possibilità di selezionare i materiali per grado scolastico quindi all'interno dell'unità didattica voi potete selezionare i materiali dell'infanzia i materiali della primaria di primo ciclo secondo ciclo secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado e oltre a questa selezione potete poi andare nel menu laterale invece a selezionare la tipologia dei materiali ci sono guarda e ascolta che sono tutti c'è anche qui scritto un po' nell'AI di info vi spiega che cosa sono comunque in generale sono tutti gli strumenti video o audio che sono presentati all'interno della piattaforma ci sono poi strumenti per la formazione dei docenti che sono in particolare dispense e una scheda che va a presentare l'unità didattica e i contenuti che sono presenti all'interno dell'unità didattica fai e impara che invece comprende le attività di gioco o di quiz di interattive diciamo che sono presenti in ciascuna unità didattica per i vari gradi scolastici e quindi le attività diciamo di soprattutto di gioco ecco che possono essere sia interattive all'interno della piattaforma sia ad esempio disegni da colorare racconti da leggere infine c'è la sezione prova e verifica dove sono contenuti i test di autovalutazione che erano quelli che vi dicevo e che servono eventualmente a verificare i concetti appresi giusto per farvi vedere se io in questo momento clicco sulla copertina del materiale si apre il materiale e vi viene presentato il titolo dei tag cioè delle parole chiave e poi una breve descrizione di che cosa si tratta e l'argomento che viene trattato chi si rivolge insomma vi viene data una panoramica del prodotto del contenuto però non si può visualizzare non è cliccabile perché vi viene scritto accedi per visualizzare questo contenuto quindi finché non ci si registra e non si accede alla piattaforma è possibile navigare nella piattaforma è possibile vedere cosa c'è all'interno ma non si può andare a vedere il contenuto quindi cliccando succede il contenuto si apre la pagina per accedere alla piattaforma e registrarsi lo vediamo fra un attimo prima volevo finire la carellata diciamo del menu nella pagina che è la parte più semplice poi perché c'è la pagina di presentazione del progetto dove qui vi potete rileggere l'operta il repilego dell'offerta didattica prevista quest'anno ci sono anche i due contest qui adesso appena chiusa l'adesione caricheremo anche i regolamenti che vi saranno mandati comunque via mail alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado e qui ci sono i fascicoli che vi abbiamo mandato con la presentazione dell'offerta didattica e insomma qui c'è proprio una sintesi di quello che è il progetto con anche i link e i materiali di approfondimento relativi proprio al progetto Dragon Games nella sezione come funziona invece trovate tre sezioni per i docenti per gli allunghi e la sezione tutorial dove ci sono le pagine che vi spiegano come accedere alla piattaforma ecco quindi se non avete potuto essere presenti qui se non avete modo di vedere la registrazione che poi metteremo a disposizione o se per caso non vi ricordate più come accedere alla piattaforma fra due o tre mesi comunque all'interno della piattaforma trovate sempre un riepilogo di come fare passo passo ad accedere alla piattaforma quindi non vi dovete preoccupare come vedete sì abbiamo messo la data del 15 poi in realtà abbiamo prolungato le adesioni però comunque la cosa importante è che voi avrete il 15 novembre l'attivazione comunque la cosa importante è che avrete la licenza attiva fino al 30 giugno 2024 quindi per tutto l'anno scolastico stessa cosa poi c'è anche per gli alunni quindi anche i studenti adesso vi spiegheremo la procedura però se non vi ricordate come spiegare la procedura agli studenti qui trovate la pagina dove è ripilogato come fare accedere i vostri ragazzi i vostri studenti alla piattaforma e poi ci sono anche dei tutorial che sono dei video che praticamente fanno la stessa cosa cioè praticamente è un video che racconta quello che poi voi vedete qui scritto nella sezione per docenti avete un tutorial che vi fa proprio vedere con il mouse che si sposta l'indicatore che si sposta su una pagina dove andare per accedere alla piattaforma sia per voi che per come comunicare appunto il codice di accesso ai ragazzi e poi anche una breve lezione su come utilizzare le unità didattiche quindi avete tutto il supporto necessario naturalmente potete scrivere a me se non vi capite se non avete idea perché vi siete dimenticati di come accedere c'è anche la sezione contatti dove trovate sempre il mio numero di telefono l'indirizzo mail oppure un form per fare una richiesta direttamente dalla piattaforma l'ultima sezione quella corsi di casa comune è una sezione che noi abbiamo messo a disposizione in collaborazione con casa comune che è diciamo il nostro partner nello sviluppo della piattaforma perché casa comune mette a disposizione dei corsi tematici che corsi di formazione che sono a pagamento quindi non sono gratuiti compresi all'interno della licenza però insomma se volete voi potete sfogliare quello che viene messo a disposizione e le commissioni di accesso di registrazione e di acquisto diciamo dei corsi altrimenti lasciate lasciate lì e non c'è nessun problema insomma è una collaborazione che noi abbiamo con con casa comune bene quindi questa è la presentazione della piattaforma e dei suoi contenuti io vi farei vedere come accedere alla piattaforma naturalmente se volete quando volete mi chiedete interrompo mi fate delle domande allora praticamente quando siete in home page per poter accedere alla piattaforma dovete cliccare su questo in alto a destra che c'è quel simbolo dell'omino dell'utente diciamo perché voi in questo momento non siete potete vedere la piattaforma ma non potete fruire dei contenuti cliccando su l'omino si apre quella pagina di login che avete visto prima ci sono due tipi possibilità di accesso uno per i docenti e uno per gli alunni in questo caso noi vediamo l'accesso per i docenti l'accesso per i docenti la cosa importante è che l'accesso deve essere fatto con la mail e la password che avete utilizzato quando avete fatto compilato il modulo di adesione se non vi ricordate la password non c'è nessun problema perché è possibile reimpostarla quindi cosa andiamo a fare andiamo a inserire l'indirizzo mail con cui avete fatto l'iscrizione e poi andiamo a inserire la password che avete utilizzato quando avete fatto l'adesione al progetto ci si logga e compare questo messaggio questo messaggio è il codice classe che voi avrete una classe associata al vostro questo naturalmente è un account che abbiamo fatto di modello diciamo per farvi vedere come funziona in questo caso io ho associato una terza F e ho un codice classe che serve per all'alunno per accedere poi al suo account all'interno della classe di riferimento la cosa importante che volevo farvi vedere è che una volta che voi avete fatto l'accesso potete verificare che siete all'interno della piattaforma perché vi compare il vostro nome qui in alta sinistra prima c'era solo Lomino adesso c'è Lomino e il nome e poi questa cosa qui questo banner con scritto codice classe che se voi cliccate si riapre insomma il codice classe da comunicare che se lo dimenticate se non sapete in più qual è lo potete sempre recuperare in qualsiasi momento allora vi faccio rivedere come accedere anche perché vi faccio vedere che se non vi ricordate la password potete cliccare qui non riesco ad accedere cliccando non riesco ad accedere voi inserirete l'indirizzo mail che avete utilizzato per l'adesione il vostro indirizzo mail facendo prosegui vi arriverà una mail nel vostro indirizzo con le istruzioni per impostare la password quindi senza problemi tranquillamente potete recuperare la vostra password e impostarla una nuova come quando volete allora rifaccio l'accesso in modo tale che riusciamo ad entrare nella piattaforma ok come vedete adesso io qui ho scritto Mario e quindi sono entrato nella piattaforma nel mio account vi mostro il menu del vostro account per gestire il vostro account che appare in un momento in cui io clicco sul mio nome o sull'omino il menu comprende queste voci è molto semplice anche questo c'è una voce di dettagli account dove ci sono i vostri dati nome e cognome se avete indicato il telefono il comune di riferimento e poi le versioni a cui siete attivi a cui avete accesso diciamo di scuola park c'è una sezione i miei preferiti che in questo momento è vuota ma poi vi faccio vedere che cosa serve e come arricchirla questa sezione le mie classi dove vengono indicate tutte le classi che fanno riferimento a voi perché avete potuto in fase di adesione avete potuto far aderire anche più di una classe alla volta il codice classe riferito a quella classe specifica ogni classe avrà un suo codice e nel dettaglio qui ci saranno l'elenco degli alunni che avranno fatto l'accesso con il nome e con il cognome in modo che voi possiate verificare se effettivamente gli alunni si sono registrati in questo momento risulta che nessun allievo si è registrato poi magari proviamo a fare una registrazione in modo da verificare che questa cosa che qui si aggiorni con il nome e cognome dell'alunno quindi qui gestite diciamo la vostra classe e potete anche vedere l'epilogo delle attività in particolare dei test di valutazione che fanno gli alunni voi qui troverete il nome e cognome con il punteggio ottenuto dallo studente quindi avrete sempre il modo di tenere sott'occhio quello che stanno facendo i vostri ragazzi e le attività che stanno che stanno svolgendo in questo momento non si vede nulla perché non ho studenti registrati poi proviamo a fare una registrazione e vediamo se riusciamo a far vedere un po' come si arricchisce la sezione le mie attività nel senso che anche voi potete fare i test quindi o potete fare delle attività e quindi in questo caso vedrete scritte le vostre le attività che avete completato che avete fatto e le mie classifiche invece è una sezione che riguarda un gioco che c'è all'interno della piattaforma che voi potete fare che però non porta a dei premi è semplicemente una classifica generale che vi fa vedere dove vi siete classificati all'interno del gioco che è il gioco ambiente che troverete all'interno della piattaforma che vi farò vedere o il green quiz che sono dei quiz sui temi della raccolta differenziata e basta poi c'è il tasto logout che vi vi consente di uscire dal vostro account però noi in questo momento rimaniamo dentro e vi faccio vedere come fluiranno i contenuti allora in questo momento se noi andiamo sul catalogo generale se scegliamo ad esempio il tema rifiuti se adesso clicco all'interno di uno dei contenuti i contenuti sono disponibili quindi proviamo ad esempio vediamo un materiale cartaceo diciamo una dispensa insegnanti sulla riduzione dei rifiuti questa è una dispensa insegnanti per la riduzione la prevenzione per le pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti a questo punto io essendo all'interno della piattaforma posso sfogliare la dispensa direttamente all'interno della piattaforma quindi mi si apre il materiale e questa è una dispensa suddivisa in diverse sezioni che va ad affrontare determinati argomenti consumo consapevole dando tutta una serie di indicazioni su la riduzione degli imballaggi tutte le soluzioni per ridurre gli imballaggi quindi è una dispensa che si rivolge a voi docenti e che va ad approfondire gli argomenti che fanno riferimento al tema della riduzione questa voi la potete appunto ci sono degli esercizi delle attività da svolgere con i ragazzi e voi la potete sia sfogliare ma anche scaricare quindi se io torno indietro vado alla dispensa insegnanti non faccio sfoglia ma faccio scarica questa viene scaricata sul vostro computer quindi avete anche la vostra copia della vostra dispensa a disposizione che eventualmente potete stampare e utilizzare in classe quindi tutti gli strumenti cartacei sono sia sfogliabili sulla piattaforma sia scaricabili poi ci sono ad esempio per farvi vedere degli altri prodotti andiamo per tipo di risorsa dei video ad esempio c'è un video che parla della della filiera del riciclo si chiama Missione Riciclo si rivolge in questo caso alle secondarie di primo e secondo grado e essendo all'interno della piattaforma cliccando sul tasto riproduci posso vedere il video quindi se faccio partire il video parte il video con dell'audio il video lo posso vedere o così in piccolo oppure posso strangirlo ho un altro caso scottante per le mani purtroppo riguarda molte persone per bene vittime di quelli che chiamiamo luoghi comuni non so se sei presente eh non ci sono più le mezze stagioni ah i giovani d'oggi non hanno voglia di fare niente ah per me è meglio il libro del film non è tanto il caldo è l'umido che ti frega io faccio la raccolta differenziata ecco questi questi sono i filmati che poi questo dura ad esempio dieci minuti ce ne sono altri che durano meno ci sono video in motion grafica ad esempio questo sulla carta parla della qualità del riciclo e quindi da suggerimenti su come operare correttamente la carta come mai si usa l'abbete rosso per costruire diversi strumenti a corda è davvero la rosa il simbolo dell'amore eterno ma soprattutto cosa mettiamo nella carta la carta è un materiale prezioso e antico oggi sappiamo che riciclandola possiamo preservare ok quindi vi sto facendo un po' una carellata delle tipologie di contenuti anche per farvi vedere che cosa potete fare cioè ci sono dei video interattivi che sono molto interessanti perché questo ad esempio è sulla prevenzione dei rifiuti perché facendo partire il video questi sono dei video nei quali i ragazzi possono interagire nel corso della visione ciao questo è un video interattivo puoi toccare con il dito o con il mouse i fumetti che compaiono sul video per rispondere alle domande o leggere gli approfondimenti prova con questo ad esempio io clicco qui e si apre una schermata in questo caso ottimo lavoro però poi se andiamo avanti cerca nella didascalia del video le istruzioni complete oggi parliamo di riduzione dei rifiuti se poi arriviamo a una domanda non ci resta che fare meno immondizia prevenire è meglio che curare è suddiviso per argomenti la risposta per fortuna è sì la risposta per fortuna è sì occhio all'aspettazione non mi riesco a far vedere le domande comunque praticamente poi durante la visione appaiono dei pop up in cui i ragazzi possono la persona che fa il video fa una domanda e i ragazzi possono cliccare rispondere in base alla risposta poi si salta a un argomento oppure ad un altro quindi l'abbiamo chiamato appunto video interattivo proprio per questo ultima cosa che vi faccio vedere sono i cartoni animati che sono molto carini magari soprattutto per le scuole dell'infanzia o per le primarie perché raccontano appunto delle storie adesso vediamo se riesco a trovarne uno in mezzo al catalogo eccolo qua questa è l'allegra brigata sempre facendo il tasto riproduci parte il cartone animato le storie brevissime di Paolo Silingardi l'allegra brigata tina lattina se ne stava al buio nel bidone dei rifiuti era lì da dieci minuti quando una lama di luce la colpì dall'alto ok naturalmente poi li vedete tranquillamente voi quando avrete l'accesso questi sono tutti i contenuti che voi avete a disposizione che potete utilizzare andando a vedere qualcosa di un po' diverso vi faccio vedere ad esempio dei laboratori interattivi togliamo rifiuti ecco questi ad esempio sono dei laboratori interattivi vi faccio vedere vediamo cosa riesco a fare questo si chiamano DigiLab e sono dei laboratori che parlano soprattutto di cambiamenti climatici e e che simulano da un punto di vista digitale determinati tipi di cambiamenti che possono accadere in base ai comportamenti che noi teniamo ad esempio in questo caso in questo caso c'è un'introduzione in questo DigiLab c'è un'introduzione dove viene spiegato l'argomento che cosa viene affrontato nel corso del DigiLab e poi si possono fare delle attività ad esempio l'effetto Serra vi viene spiegato che cos'è l'effetto viene spiegato ai ragazzi anche che possono accedere al DigiLab che cos'è l'effetto Serra e avviare il gioco in questo caso quindi avviando il gioco io vado a a vedere determinate conseguenze qui mi pare che siano delle istruzioni sono delle istruzioni che dovevo schiacciare dei tasti per aumentare o diminuire l'effetto Serra quindi aumentando diminuendo l'effetto Serra qui vengono cambiate delle indicazioni sulla percentuale di concentrazione di gas l'energia che viene trattenuta e l'aumento della temperatura quindi interagendo con questo gioco il bambino vede come cambiano le cose sul pianeta in base all'aumento o la riduzione delle emissioni e così avanti con altri laboratori con altre attività questo per farvi capire che tipo di interattività ci sono all'interno della piattaforma qui ad esempio vengono fatte tutta una serie di domande e viene valutato l'impronta ecologica della famiglia o insomma della persona che risponde a queste domande ecco giusto anche qui per farvi vedere un po' di che cosa di che cosa parliamo e l'ultima cosa l'ultimo contenuto che vi faccio vedere ma ce ne sono molti altri poi ve li potete vedere sono i test di valutazione ad esempio sono divisi per argomento e anche per grado scolastico ad esempio si parla di riduzione dei rifiuti questo è per le primarie di terza quarta e quinta e può essere fatto a conclusione magari dell'unità didattica si parte con svolge il test si avvia il test e ci sono tutta una serie di domande a risposta multiple in cui i ragazzi possono rispondere adesso io rispondo casualmente sono dieci domande per quindici minuti quindi lo studente risponde alle domande che poi li trova all'interno dell'opusculo ad esempio che è dedicato a quell'argomento termina il quiz consegno il test e hai alla fine hai anche l'esito delle risposte cioè ti viene scritto che hai fatto tre risposte su dieci corrette indicate quali sono quelle corrette e quelle sbagliate puoi naturalmente ripetere il test oppure fare un'altra un'altra attività sempre nei giochi educativi c'è questo gioco che è gioco ambiente rifiuti in cui è un gioco interattivo in cui i ragazzi possono muoversi in tutta una serie di ambienti è un po' pesante quindi forse non so se riesco a condividervelo vediamo se si carica ok si sta caricando forse non lo vedete però aspetta vi condivido l'altra perché si è aperta in un'altra finestra eccolo qua quindi questo è il gioco ambiente rifiuti i ragazzi possono giocare a questo gioco devono creare un loro avatar creano quindi il loro avatar e poi con questo avatar possono iniziare a giocare mettendo il loro nome si muovono in questo in questi vari ambienti e in questi ambienti poi possono muovendosi cliccando sugli oggetti che si animano rispondere a delle domande e ottenere dei punti quindi questo gioco in base al fatto che poi viene anche spiegata insomma la risposta infatti in base al fatto se rispondono correttamente o meno alla domanda loro acquisiscono tutta una serie di punteggi e questa questa cosa la possono fare e possono muoversi liberamente una volta che hanno completato tutti i ambienti completano il gioco ok quindi questo vi ho fatto una carrellata un po' di contenuti un po' più particolari che ci sono all'interno della piattaforma e quindi se poi io adesso vado a vedere la mia il mio account se vado a vedere le mie attività vedete che troviamo il test di valutazione che ho eseguito e il punteggio che ho che ho fatto ecco stessa cosa sulle mie classifiche io ho iniziato il gioco ambiente in questo momento sono a zero e sono 156esimo nella 156esima posizione perché non ho fatto punti però anche qui man mano che poi accumulo punti posso vedere la classifica aggiornata l'ultima cosa che vi faccio vedere sempre per conto di quanti i docenti è relativo ai preferiti perché quando io entro nel catalogo con tutte le risorse posso decidere di dare un mi piace o non mi piace il contenuto una volta che l'ho visionato questo può servire anche a noi per valutare le preferenze dei contenuti se sono più magari meglio accettati i contenuti video contenuti audio oppure i test di valutazione quindi qui potete dare un voto mentre con questa stellina potete aggiungere preferite il contenuto quindi se io clicco la stellina e l'attivo quando vado nella mia account nella pagina i miei preferiti trovo questo contenuto immediatamente a disposizione quindi se volete salvarvi alcune cose perché le volete far vedere anche ad altre persone ad altre classi e volete avere a disposizione voi andate a selezionare i contenuti preferiti e potete si arrivo subito per la domanda dico solo l'ultima cosa che potete anche condividere il contenuto quindi clicchiamo un contenuto su questo tasto condividi generate un link che poi potete copiare e scrivervi o copiare su una mail dove volete oppure mandare direttamente via mail o via whatsapp a un altro docente ad esempio perché lo visioni naturalmente per poterlo visionare deve avere anche lui la licenza attiva di scuola parco comunque potete condividere i contenuti tra di voi tra i vari docenti prego si perdoni la voce insegnante di scuola dell'infanzia allora io non ho capito se per registrarci dobbiamo aspettare un link qualcosa perché io ho provato a farlo dal telefonino in realtà poi non avevo la password quindi ho ricevuto il link per inserirla e risulto registrata ma in realtà sembrerebbe possibile dal primo dicembre secondo risulto cioè si poteva accedere e registrarsi già da adesso allora devo attendere no no voi potete già accedere e registrarvi adesso devo verificare se potete già visionare oppure se a parte in automatico nel momento in cui scadono le adesive comunque la registrazione anche fatta oggi è valida si 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 poi voi semplicemente quando riproverete ad accedere magari fra due giorni troverete con lo stesso utente la stessa password troverete i contenuti disponibili quindi senza nessun problema non vi deve arrivare un ulteriore link ok grazie prego prego Rita sì buonasera io per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma lei ha detto che ci si iscrive con l'indirizzo lasciato al modello di iscrizione allora nel mio caso l'iscrizione l'ha fatta l'insegnante è referente della mia scuola al primo contatto con ASVO quando è venuto a far visita a Drago Augusto ho lasciato il mio indirizzo e tutti i dati per cui anche ho partecipato sempre al webinar con il mio indirizzo non risulta però nel modello dell'iscrizione allora infatti questa è una cosa molto importante che vi chiedo i docenti perché naturalmente nella fase di adesione spesso l'adesione la fa un docente per tutte le le classi della scuola dove è successo questo cioè dove è stata fatta un'adesione unica io chiederei al docente referente di inviare una mail all'indirizzo mail segreteria asvoscuole.net dandomi gli indirizzi mail dei docenti e le classi di riferimento e poi ci occupiamo noi ad assegnare la classe che aveva iscritto il docente al nuovo docente sono tre sezioni nella scuola tutte e tre le sezioni e ha fatto l'adesione un'unica docente immagino sì la referente ancora a ottobre ecco allora lì se quella docente può inviarmi una mail con scritto la classe prima l'indirizzo mail di questo docente seconda B eccetera in questo modo noi riusciamo ad associare l'indirizzo mail al nuovo docente e arriverà al docente nuovo una mail per potersi registrare e attivare la piattaforma va bene grazie questo è un caso che vale per molte scuole quindi è importante che magari anche chi è qui lo dica al referente o chi non c'è per perché così regolarizziamo tutte le le licenze che in questo momento magari fanno riferimento a un unico docente che si trova ad avere cinque classi però vogliamo distribuire le licenze agli altri ai docenti di riferimento corretti scusi è auspicabile che ogni classe abbia un docente oppure nell'infanzia è sufficiente uno per tutte e tre no questo è una libera scelta della scuola nel senso che poi se volete tenere un unico referente con un unico accesso non c'è nessun problema grazie prego Cristina sì e ogni classe deve avere un solo docente registrato altra domanda è quello sì una classe non può avere due docenti bisogna in quel caso condividere l'account quindi l'indirizzo mail e la password andrebbe condivisa con un altro docente se si vuole far utilizzare lo strumento a quel docente va bene grazie prego prego Elisa nel caso in cui invece si indicasse come mail non quella del referente ma la mail istituzionale della scuola attraverso quell'account potrebbero accedere tutti allora diciamo che l'account può essere anche associato alla scuola è logico che noi dovremmo dare la licenza solo alle classi che hanno aderito al progetto poi voi potete tranquillamente scambiarvi l'account utilizzarlo non è che stiamo via controllare questa cosa però sarebbe meglio che l'account fosse associato a un docente non alla scuola perché allora sarebbe come dire dare la possibilità a tutta la scuola di usare i prodotti anche se non ha aderito al progetto quindi io chiederei di avere il nome di un docente come riferimento poi voi potete tranquillamente condividervelo e utilizzarlo anche anche per altre classi però non associerei una classe anche perché poi c'è un codice classe che è specifico per quella classe quindi quello poi vorrebbe dire condividere il codice classe anche con tutti con tutte le scuole a scuola quindi non sarebbe corretto diciamo che c'è un po' la difficoltà di individuare un docente per classe cioè per noi sarebbe una difficoltà perché in realtà ci sono almeno due docenti per classe almeno certo io là quello che posso dire è di condividere l'account perché così avete lo stesso docente avete un unico docente con un unico account e l'unico codice classe che potete utilizzare ho creato una mail unica che utilizzate voi due che utilizzano i due docenti però associarlo alla scuola non credo che sia che sia corretto ecco questo che io credo che possiate tranquillamente condividervi anche perché la password non è che è la password della mail del docente è la password di accesso alla piattaforma che può essere una password che decidete insieme nuova e che non fa riferimento a nessun altro a nessun altro account e altri accessi da altre parti quindi potete semplicemente dire utilizziamo quella mail con questa password la mail che avete dato nell'iscrizione con questa password ed accedete entrambi alla piattaforma va bene la ringrazio arrivederci arrivederci io avrei solo un'ultima cosa da farvi vedere e cioè l'accesso degli studenti allora la domanda di francesco prego buonasera sono elisa mi rilascio a quest'ultima domanda per noi la situazione è leggermente diversa nel senso che l'iscrizione l'ha fatta la mia coordinatrice didattica per la nostra scuola dell'infanzia noi siamo quattro sezioni ma partecipiamo tutte quindi è bene che comunque abbiamo ognuna un accesso giusto sì certo se a voi fa piacere avere quattro accessi non c'è nessun problema dovete mandare appunto questa mail con scritto il referente per ogni scuola per ogni classe e l'indirizzo mail perfetto volevo conferma grazie mille prego allora io vi faccio vedere al volo come si accede per quanto riguarda gli studenti che così potete lo trovate anche nella sezione come funziona per gli alunni però insomma me lo faccio vedere anche così anche registrato nel webinar allora io esco dal anzi facciamo così prima di tutto bisogna copiarsi il codice classe quindi questo codice j27 j2r in questo caso è questo poi voi avrete un vostro un vostro codice classe ecco e usciamo dalla piattaforma perché altrimenti non posso accedere come studente allora per accedere come studente si clicca sempre su un lomino in alto a destra e teniamo in considerazione la sezione con scritto accesso alunni in questo caso cosa dovrà fare l'alunno dovrà per prima cosa inserire il codice classe che gli avete dato e scrivere il proprio nome e il proprio cognome naturalmente soprattutto per i bambini più piccoli invito i docenti a fare se utilizzano strumenti digitali a fare quest'operazione assieme perché così li potete guidare oppure fornire il link per fare quest'operazione insieme ai propri genitori a casa insomma inserendo anche se l'età è molto semplice però meglio insomma che i bambini vengano seguiti anche perché così si ricordano tutti i passaggi scrivono il loro nome e cognome il codice classe schiacciano avanti e viene chiesto una domanda segreta che è una specie di password però per evitare che si devano ricordare una password avevo scelto questa soluzione la domanda segreta può essere scelta da un menu a tendina ad esempio qual è il tuo colore preferito e scrivono la risposta che diventa poi la risposta con cui possono riaccedere al loro account in questo caso scrivo il colore preferito e naturalmente fanno fede anche le maiuscole e le minuscole quindi magari la cosa migliore da suggerire è scrivere tutto minuscolo o tutto maiuscolo e si fa avanti una volta che si è completata questa cosa quindi inserito il codice classe inserito nome e cognome poi la domanda segreta si accede con l'account dello studente lo studente vede tutto quello che vedeva il docente quindi va a vedere le unità didattiche accede può ad esempio andare a vedere questo video lettura di Guido Quarzo il cortile di Breta e quindi può riprodurre il contenuto del video insomma della lettura oppure può vedersi l'opuscolo l'opuscolo cioè gli alunni quindi sfogliarsi l'opuscolo che presenta il tema del riciclo e della raccolta differenziata quindi può scorrerlo e visionare il contenuto l'unica cosa che cambia è un po' il menu laterale nel senso che qui naturalmente ci saranno i suoi preferiti che lui può selezionare quindi se lui va nelle unità didattiche può mettere preferito su questo video e lo vedrà apparire nella sua pagina preferiti e poi potrà vedere le sue attività quindi i suoi test e quello che che va a realizzare all'interno della piattaforma per il resto è tutto identico vi faccio rivedere come accedere come studenti quindi in questo caso io mi sono già registrato una prima volta quindi io scriverò il mio codice classe come alunno scrivo il mio nome e il mio cognome avanti qual è il tuo colore preferito in questo caso si ricorda la mia domanda segreta e no non è rosso ma è verde faccio avanti e accedo alla piattaforma e quindi il bambino lo studente può entrare di nuovo all'interno della piattaforma se adesso rifacciamo l'accesso come docente andiamo a vedere che dovremo vedere il nuovo alunno nell'elenco degli aderenti degli studenti che fanno parte della mia classe quindi io entro vado a vedere le mie classi e vediamo che nel dettaglio della classe vediamo che si è registrato un alunno abbiamo a disposizione 30 licenze per ogni codice classe quindi si possono coprire fino a 30 studenti per classe diciamo e vediamo il nome e cognome dell'alunno che si è registrato e posso poi andare a vedere le attività naturalmente in questo caso l'alunno non ha fatto nessuna attività quindi non vado non ho nulla ma nel momento in cui fa dei giochi o fa dei test di valutazione avrò i risultati del test o del gioco e così via quindi man mano che poi gli alunni si registrano voi li troverete nell'elenco avrete anche la possibilità di vedere un riepilogo di tutte le attività che in questo caso è a zero perché non c'è nulla di eseguito ma avrete anche la possibilità di vedere un grafico con tutte le attività che vengono svolte dai vostri studenti prego Elisa sì se ho capito bene quindi noi ai bambini dobbiamo dare questo codice per poter entrare o meglio io lo darò ai genitori perché è una scuola dell'infanzia certo quindi il genitore entra con la sua mail nel sito scuola park e inserisce questo codice nome e cognome del bambino allora non serve la mail perché come vede questo è il codice classe che lei schiacciando su codice classe che vede lì sopra le appare e quindi lei può reperire sempre il suo codice classe di riferimento e questo è quello che deve comunicare al genitore per poter accedere il genitore deve semplicemente cliccare sul nomino lì a destra e andare su accesso alunni non deve inserire mail ma deve inserire semplicemente codice classe il nome e cognome dell'alunno e poi la domanda preferita quindi non chiediamo la mail non serve la mail non abbiamo messo la mail perché uno gli studenti soprattutto quelli piccoli non ce l'hanno e anche per far evitare che i genitori debbano inserire la propria mail quindi si crea quindi si crea la domanda preferita si crea l'utente attraverso quella domanda preferita e il codice classe è chiaro come processo? sì grazie ok quindi è abbastanza semplice voi una volta che comunicate il codice classe al genitore eventualmente gli potete linkare o dare la pagina come funziona per gli alunni come riferimento perché qui ha tutti i pass si può seguire passo passo quello che viene scritto e può accedere e fa registrare il proprio studente alla piattaforma ok io direi che ho detto tutto quello che vi dovevo dire sulla gestione dei contenuti dell'accesso degli accessi sia da parte vostra che da parte degli studenti invito come ho detto prima i docenti che hanno fatto una visione unica a mandarmi gli indirizzi media i docenti di riferimento per le varie classi che hanno iscritto e naturalmente vi manderemo una mail quando le licenze saranno ufficialmente attive e ultima cosa se avete problemi se non vi ricordate le procedure avete il sito la sezione come funziona avrete la registrazione di questo webinar e infine avrete anche la possibilità di iscriverci e di chiederci ulteriori informazioni insomma noi speriamo che questo strumento vi faccia vi dia la possibilità di svolgere delle attività che venga valutato positivamente e insomma che venga quindi sfruttato e utilizzato da tutti voi docenti insomma se non ci sono domande io vi saluto e vi auguro una buona serata grazie grazie mille arrivederci grazie arrivederci grazie arrivederci grazie grazie buonasera buonasera, arrivederci grazie, buonasera